salve buongiorno a tutti benvenuti vedo che vi state state entrando tutti quanti nell'aula la mia breve introduzione al webinar di oggi che è sul procedimento amministrativo per gli impianti distribuzione carburante si tratta di un argomento specifico però importante soprattutto è uno dei più complessi con i quali gli sportelli unici si trovano a lavorare in quanto implica una serie di conoscenze non solo commerciali ma anche relativi ad aspetti urbanistici e di sicurezza come sapete ormai soprattutto a chi di voi ha seguito con costanza e ce ne rallegriamo tutto il ciclo di formazione organizzato insieme alla regione piemonte questo è un programma dedicato al personale delle pubbliche amministrazioni della regione e in particolare ai responsabili degli sportelli unici o a tutte quelle figure che all'interno delle pubbliche amministrazioni si occupano delle procedure autorizzatorie delle attività di impresa i prossimi appuntamenti già programmati sono per le prossime due settimane sempre di martedì e sempre alla solita ora anche queste e su tematiche specifiche saranno uno per la realizzazione esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e l'altro sulla procedimenti amministrativi per la somministrazione di alimenti e bevande anche questi due procedimenti con i quali gli sportelli si trovano frequentemente molto frequentemente a lavorare forse più il secondo ma adesso diciamo sicuramente anche per quanto riguarda gli impianti di energia rinnovabili come partecipare ovviamente ormai lo sapete bisogna sempre registrarsi per qualsiasi comunicazione a un nuovo o nuova registrazione potete scrivere a piemonte su a per chioccio la formes punto it come presumo già sappiate tutti quanti e dove in questa pagina invece trovate la registrazione di tutti gli eventi che sono stati realizzati che ormai mi sembra siano una dozzina nelle quali trovate anche le slide che sono state presentate dai relatori e cosa molto importante trovate anche le risposte scritte a quelle domande poste in chat alle quali non era stato possibile rispondere o per motivi di tempo o perché erano necessari degli approfondimenti da parte dei nostri esperti. Termino qui la mia conclusione Riccardo Roccasalva che conoscete effettuerà l'intervento poi avremo l'ultima mezz'ora nella quale risponderà alle domande che mi invito a porre in chat come sapete digitando nell'apposito spazio che vedete a vostra disposizione queste le principali tematiche che saranno affrontate molto sintetizzate su questa lavagna vi invito a porre le domande quanto più potete non vi ponete problemi anche se si tratta di domande diciamo apparentemente apparentemente semplici e anche se probabilmente se le ponete all'inizio a molte nel corso della illustrazione da parte di Riccardo Roccasalva sanno dati chiarimenti e delucidazioni infine vi ricordo che anche questo evento è registrato e anche questo evento alla stessa pagina nella quale vi siete iscritti troverete la registrazione, le slide presentate nonché la risposta alle domande ovviamente tutto questo diciamo le domande nel giro di qualche giorno per il resto la registrazione e le slide saranno tempestivamente pubblicate al massimo domani grazie anche all'aiuto che ci dà Stefania Mullas auguro a tutti buon webinar e passo a condividere le slide di Riccardo Roccasalva io rimarrò comunque collegata con voi grazie Francesca, buongiorno a tutti allora come è stato anticipato oggi parleremo della gestione del procedimento unico per la costruzione e l'esercizio degli impianti carburanti quindi andremo a esaminare ancorché in maniera necessariamente veloce sia la normativa nazionale quindi a partire dal decreto legislativo 32 del 98 che la normativa regionale quindi qua in questa prima slide trovate un riepilogo, un riassunto delle normative che tratteremo quindi per quanto riguarda la normativa nazionale il decreto 32 del 1998 quello che ha introdotto come sapete il regime dell'autorizzazione al posto del previgente regime concessorio per gli impianti di distribuzione carburante che ha delineato il procedimento che i comuni devono porre in essere per l'autorizzazione all'esercizio e alla costruzione e all'esercizio degli impianti carburante il decreto legislativo 257 del 2016 che è importante perché ha stabilito una serie di obblighi in particolare per i nuovi impianti ma anche in caso di ristrutturazione totale quindi gli obblighi di dotarsi di determinati combustibili alternativi quali il gas naturale compresso, il gas naturale liquido eccetera che poi tratteremo più avanti e che ha dato luogo a un accordo in conferenza unificata e su questo poi c'è stata una presa d'atto da parte della regione Piemonte con la DGR la 6232 del 2017 nella slide trovate erroneamente il riferimento alle infrastrutture combustibili alternative riferite a una delibera di giunta regionale del 2018 quella invece ha recepito l'accordo per l'attuazione dei combi da 100 a 119 della legge 124 del 2017 quindi che riguarda invece fondamentalmente le verifiche circa la compatibilità su tutta l'unione di aspetti di viabilità che i SWAP devono porre in essere che esamineremo al termine di questa illustrazione naturalmente ci sono tante altre normative sia nazionali che regionali naturalmente non l'ho citata ma è la base la legge regionale 14 2004 come modificata poi nel 2007 eccetera quindi ci sono molte norme che stabiliscono le procedure e danno le definizioni ci sono tante altre normative quindi sia nazionali che regionali ho voluto riassumerle anche perché per tenerci in un'ora e mezza mi sembrava che queste fossero le normative salienti da commentare e da affrontare allora cominciamo intanto come dire è corretto fare con determinate definizioni quindi stabilite sia dalla legge regionale 14 del 2004 sia dalla delibera di giunta regionale del 2017 che anche se in effetti con una delibera rubricata attuazione dell'accordo per quanto riguarda i combustibili alternativi tuttavia contiene anche tutta una serie di regole che riguardano la localizzazione riguardano proprio il procedimento amministrativo che è utile trattare queste prime definizioni sono tratte direttamente dalla legge regionale 14 del 2004 quindi l'impianto stradale di distribuzione di carburanti il complesso commerciale unitario quindi è costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica del carburante i serbatoi i servizi e le attività accessorie attività accessorie poi che possono essere naturalmente anche quelle previste non soltanto per l'automobilista ma anche possono essere attività commerciali di vario tipo come vedremo più avanti diverso invece il discorso per gli impianti privati quindi gli impianti a uso privato che sono anche qua attrezzature fisse o mobili collegate a serbatoi utilizzate per rifornire però in questo caso non il pubblico indifferenziato ma per fornire autoveicoli di proprietà di imprese produttive e di servizio quindi questo è l'aspetto importante sono impianti appunto destinati a autoveicoli in genere automezzi ma anche vetture aziendali di proprietà di imprese manifatturiere o di servizio tranne le amministrazioni dello Stato e impianti che si trovano all'interno di stabilimenti, cantieri e magazzini sempre con le definizioni passiamo alla delibera di giunta regionale 62-32 del 2017 che riguarda dove vi sono appunto alcune definizioni anche una prima come dire suddivisione importante degli impianti che costituiscono la rete stradale perché abbiamo già una prima distinzione tra impianti generici e impianti che funzionano soltanto esclusivamente con apparecchiature self-service prepay che sono appunto quelle che tutti conosciamo nelle quali appunto inseriamo il banco matta alla carta di credito e poi effettuiamo autonomamente l'erogazione del carburante nella macchina l'erogatore, questa è appunto una definizione che troviamo nella DGR sono tutte le attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto fino al serbatoio dell'automezzo e misurando naturalmente i volumi e le quantità trasferite si parla di erogato per indicare proprio il volume complessivo che quell'impianto eroga attraverso queste operazioni e che poi l'erogato appunto lo troveremo in un aspetto importante relativo all'obbligo o meno di dotarsi di determinati erogatori di combustibile alternativo, lo vedremo più avanti la colonina invece è l'apparecchiatura che contiene uno o più erogatori e il punto di ricarica elevato almeno veloce è quello appunto stabilito dal terreno legislativo 256 del 2017 che prevede appunto l'obbligo di dotarsi per questi nuovi per questi impianti carburanti di nuova generazione anche di un punto di ricarica di ricarica elettrica naturalmente che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza tra i 22 kilowatt e i 50 kilowatt quindi questo è il punto di ricarica che appunto gli impianti di nuova generazione devono avere sempre la DGR 6232 del 2017 illustra il concetto di ristrutturazione totale anche questo è un concetto importante perché appunto per molti aspetti anche per molte conseguenze di carattere giuridico viene assimilata alla nuova apertura quindi al nuovo avvio di un impianto di distribuzione carburante che cos'è la ristrutturazione totale? è il completo rifacimento dell'impianto che consiste nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere quindi erogatori, colonine eccetera che non necessariamente deve essere effettuato tutto insieme ma può essere fatto in momenti successivi purché nell'arco di tre anni quindi se nel narco di tre anni si è realizzato il completo rifacimento dell'impianto la totale sostituzione del riposizionamento delle attrezzature si considera comunque anche se si tratta di più ristrutturazioni parziali si considera nel suo complesso un intervento di ristrutturazione appunto totale qual è la procedura per i nuovi impianti? allora il comune quindi chiaramente il SUAP naturalmente la normativa regionale è un po' risalente diceva laddove il SUAP sia esistente e operativo naturalmente diamo per scontato nel 2022 che tutti i comuni agiscono tramite il SUAP quindi il SUAP rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti sia stradali, sia acquali sia uso privato intanto nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della regione che poi vedremo analiticamente dettate con la DGR del 2017 e soprattutto con le modalità procedimentali previste dal decreto legislativo 32 del 1998 quindi c'è un rimando da parte della legge regionale 14 del 2004 alle modalità stabilite dal decreto legislativo 32 che come vi dicevo è il decreto legislativo che ha in qualche modo semplificato nell'ambito della cosiddetta riforma Bersani-Bassanini di fine anni 90 della pubblica amministrazione ha innovato e semplificato anche su questo tema in particolare come dicevo prima ha sostituito il regime concessorio con il nuovo regime autorizzatorio quindi i comuni rilasciano appunto l'autorizzazione autorizzazione che è subordinata a che cosa? secondo l'articolo 1,2 citato proprio dalla legge regionale 14 del 2004 subordinata soltanto esclusivamente alla verifica della conformità del progetto intanto con le disposizioni del piano regolatore piano regolatore quindi si intende naturalmente piano regolatore o piano urbanistico attuativo in generale possiamo dire in maniera un po' più tecnica quindi con le disposizioni diciamo edilizie urbanistiche vigenti approvate o anche solo adottate quindi con le prescrizioni fiscali questa appunto è una cosa che è di competenza soprattutto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alle prescrizioni che riguardano la sicurezza sanitaria quindi sicuramente l'ASL ambientale e stradale naturalmente l'ambientale dipende dagli fatti specie può esserci l'ARPA sicuramente come soggetto regionale diciamo di controllo di vigilanza può esservi il caso in cui occorra porre in essere un'AWA perché no? in ogni caso stradale naturalmente ci riferiamo agli aspetti relativi, occorre interfacciarsi con l'ente proprietario della strada per verificare appunto tutta una serie di aspetti relativi in particolare alla localizzazione ma anche all'ingresso e all'uscita dei veicoli quindi all'ingombro della sede stradale e poi alle disposizioni per la tutela dei beni storici artistici e qui ci riferiamo e aggiungerei anche come dire paesaggistici quindi sicuramente parliamo della sovrintendenza nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni e qua torna in ballo la DGR appunto del 2017 che ha stabilito analiticamente dei criteri di insediamento e di compatibilità ma anche la precedente delibera di giunta regionale del 2000 che in particolare ha suddiviso sia il territorio regionale in varie fasce ma anche ciascun territorio comunale in quattro zone che poi dopo commenteremo quindi tirando le fila il SUAP deve coinvolgere nel procedimento unico sicuramente l'ufficio tecnico barra sportello unico per l'edilizia perché si tratta appunto di acquisire nella quasi totalità dei casi soprattutto se parliamo di nuovi impianti di nuove realizzazioni un permesso di costruire l'ufficio tecnico di finanza l'UTF che una volta si chiamava UTIF oggi è UTF l'ASL competente per territorio il comando provinciale di vigili del fuoco che vi ricordo anche se in alcuni atti regionali un po' risalenti viene chiamato cioè si parla ancora di certificato prevenzione di incendio oggi vi ricordo che anche il procedimento diciamo così relativo alla sicurezza quindi di vigili del fuoco antincendio è assoggetto ad ASCIA quindi in fase in fase preliminare in fase di realizzazione dell'impianto parliamo di parere preventivo sul progetto lo stabilisce l'articolo 3 del DPR 151 del 2011 come sapete il decreto che ha semplificato notevolmente le procedure per l'acquisizione del titolo abilitativo antincendio mentre l'ASCIA è riferita alla fase di esercizio dell'attività quindi più probabilmente di collaudo diciamo così e poi abbiamo naturalmente l'ente proprietario della strada e la sovrintendenza quindi fatto salvo naturalmente la necessità che possano esservi altri che possono esservi altri enti altri soggetti competenti in ragione della specificità del singolo caso tuttavia questi sono grossomodo sempre gli enti che occorre che il SUAP deve convocare o invitare nella conferenza dei servizi parlo di conferenza dei servizi perché naturalmente si tratta di acquisire atti di assenso da parte di più enti lo abbiamo trattato in diversi webinar in precedenza chi di voi ha seguito i nostri precedenti webinar sa che appunto in questo caso scatta l'obbligo di indire o a seconda della discrezionalità tecnico-amministrativa dei responsabili del procedimento convocare la conferenza dei servizi nel caso appunto che il responsabile del procedimento ritenga per la complessità della pratica di dover ritenga di dover convocare da subito una conferenza contestuale quindi avvalendosi dell'ultimo comma dell'articolo 14 bis della legge 241 quindi questo è importante si applicano naturalmente i termini previsti dalla dalla 241 ma come specificati e come declinati nell'articolo 7 del del DPR 160 del 2010 che abbiamo già commentato in precedenza quello che però bisogna sapere è che naturalmente essendovi essendovi uffici anche preposti alla tutela di interessi sensibili naturalmente come l'ambiente e altri in quei casi questi uffici anche laddove si opti per la sola indizione della conferenza semplificata avranno un termine raddoppiato di 90 giorni rispetto ad altri enti che invece hanno che invece hanno 45 giorni ma per enti come l'ASL i vigili del fuoco sicuramente o la sovrintendenza pacificamente il termine è quello di è quello di 90 giorni poi naturalmente fatto salvo l'applicazione del silenzio assenso previsto dalla stessa dalla stessa legge 241 del 90 quindi come come si svolge il procedimento il richiedente trasmette al comune quindi al SUAP naturalmente queste sono ripeto la normativa nazionale del 98 quella regionale del 2004 ma comunque diamo per scontato che si tratti del SUAP quindi trasmette al SUAP insieme alla domanda di autorizzazione quindi conformemente alla conformemente al modello unificato e standardizzato di modulistica che trovate appunto sul portale regionale una analitica autocertificazione che chiaramente riguarda il rispetto delle prescrizioni previste che abbiamo appena commentato quindi prescrizioni imposte dalle varie normative di settore e corredata dalla documentazione prevista dalla legge e in particolare da una perizia giurata la perizia giurata è proprio quella prevista dal del decreto legislativo 32 del 98 che deve essere redatta da un ingegnere o da altro tecnico abilitato quindi che può presentare e firmare un progetto e ripeto questa documentazione deve attestare non soltanto il rispetto delle prescrizioni di quel comma 2 di questo articolo del decreto legislativo 32 del 98 quindi il rispetto delle prescrizioni di legge delle varie leggi di settore ma anche il rispetto dei criteri di insediabilità di localizzazione degli impianti carburanti ricordo a tutti che il decreto legislativo 32 del 98 prevedeva l'obbligo per i comuni di dettare determinate prescrizioni localizzative entro un termine molto breve che comunque scadeva sempre nel 1998 si prese atto del fatto che per quell'epoca per quella scadenza erano stati pochissimi non solo in Piemonte ma in tutta Italia i comuni che si erano adeguati e quindi con un nuovo decreto legislativo del 99 o 346 si stabilì che appunto le invie sussidiarie a queste prescrizioni fossero adottate dalla regione cosa che poi è stata fatta con è stata fatta con da prima con una delibera poi del 2000 e poi nuove appunto norme di localizzazione nuove norme prescrittive di insediabilità degli impianti di distribuzione carburanti sono state dettate con la delibera appunto la 62-32 del 2017 per quanto riguarda le verifiche quindi le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sia sanitaria che ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale qua parliamo degli impianti stradali per quanto riguarda invece gli impianti autostradali che anche sono in regione Piemonte come sapete di competenza dei comuni e quindi di SUAP invece la scadenza leggermente più lunga è di 18 anni quindi la scadenza il collaudo si deve effettuare ogni 18 anni il collaudo viene disposto dal comune competente per territorio naturalmente su richiesta del titolare dell'autorizzazione e si istituisce si indice e si convoca un'apposita commissione che è composta appunto da un funzionario comunale il termine naturalmente generico e tecnico può essere naturalmente tranquillamente il dirigente dell'ufficio del SUAP o persona da questo delegato da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco anche questo competente per territorio e da un rappresentante dell'ARPA quindi l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte per la messa in esercizio dei nuovi impianti e anche delle parti modificate in caso di modifica occorre che il titolare dell'autorizzazione quindi non il gestore ma il titolare fornisca al comune una idonea autocertificazione e una perizia anche in questo caso che attesti il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti laddove ovviamente non si tratti di interventi soggetti ad autorizzazione la normativa disciplina anche il caso della revoca dell'autorizzazione quindi l'autorizzazione viene revocata fondamentalmente in due casi quando il titolare non inizi in caso di nuova installazione quando non inizia l'attività nel termine stabilito dal comune a meno che non ci sia una proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto e sospenda l'attività titolare per un periodo superiore ad un anno perché il massimo della sospensione volontaria possibile di un anno a meno che naturalmente l'interruzione dell'attività non sia dovuto a fattori esterni indipendenti della volontà del titolare quali appunto lavori pubblici lavori sul traffico sulla viabilità in quella zona che impedisca proprio fisicamente all'impianto di lavorare e quindi in quel caso naturalmente si può derogare il termine di un anno per quanto riguarda ne abbiamo accennato prima per quanto riguarda gli impianti autostradali quindi c'è una prima delibera di giunta regionale la 2681 del 2001 e poi una successiva modifica nel 2009 con la 12995 dove si è stabilito che nella regione Piemonte quindi a differenza di quanto accade in altre regioni d'Italia i comuni sono competenti anche per rilascio della concessione all'installazione di impianti autostradali anche in questo caso naturalmente il anche in questo caso il rilascio della concessione è subordinata alla conformità del progetto alle disposizioni del piano regolatore quindi anche qui parliamo naturalmente di normativa edilizia urbanistica vigente o adottata alle prescrizioni fiscali e a quelle che riguardano quindi l'ASL e a quelle che riguardano la sicurezza fiscale e chiedo scusa l'UTF e a quelle che riguardano la sicurezza sanitaria quindi l'ASL ambiente ARPA o altro ente interessato l'antincendio e i vigili del fuoco nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici in questo caso l'istanza per il rilascio della concessione anche qua per la installazione e l'esercizio quindi anche qua è un anche qua parliamo della concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto autostradale della concessione edilizia naturalmente concessione edilizia è un termine che oggi va modificato come dire dinamicamente in permesso di costruire perché come sapete con il DPR 380 del 2001 il titolo abilitativo esplicito autorizzatorio per quanto riguarda l'edilizia e il permesso di costruire comunque questa istanza viene presentata sempre da parte dell'interessato quindi dell'aspirante titolare diciamo così al comune competente per territorio cosa va legata alla domanda anche qui una perizia giurata che attesti la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistiche edilizie alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni artistici storici e artistici una dichiarazione sostitutiva sul possesso deve essere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione con cui il richiedente autodichiara il possesso di requisiti soggettivi nonché la capacità tecnico organizzativa ed economica per quanto riguarda il possesso dei requisiti soggettivi parliamo di quelli morali naturalmente è chiaro che come dire l'impianto di distribuzione in carburanti in quanto attività di vendita al consumatore finale o nel caso di impianti privati all'interno dell' utilizzatore della stessa azienda ma comunque parliamo di attività di vendita sono sempre pacificamente questi requisiti assimilati ai requisiti che deve avere un qualunque commerciante che vende beni della categoria non alimentare quindi sicuramente possiamo fare riferimento all'articolo 71 i commi da 1 a 5 del decreto legislativo 59-2010 che come sapete appunto sono quelli che regolano come dire gli aspetti soggettivi morali dell'esercente l'attività di commercio al dettaglio non alimentare e inoltre deve sempre per quanto riguarda gli impianti autostradali quindi oltre alla perizia giurata la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti personali e di capacità tecnico organizzativa ed economica una dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS perché naturalmente questo appunto altrimenti verrebbe acquisito verrebbe acquisito in fase di conferenza ai servizi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda che deve essere ovviamente il completo della citata documentazione quindi si dà per scontato che il termine comincia a decorrere da quando la pratica viene presentata in maniera formalmente completa quindi finché vi è la fase di integrazione documentale non decorre 90 giorni o meglio vengono sospesi il comune rilascia quindi entro 90 giorni il comune rilascia la concessione per l'installazione dell'esercizio del nuovo impianto e la relativa concessione edilizia io direi declinato questo periodo nell'ambito del SUAP del DPR 160 rilascia l'autorizzazione unica che in sé ingloba la concessione cosiddetta commerciale petrolifera e il titolo abilitativo edilizio l'esercizio dell'impianto è subordinato in questo caso all'esito positivo del collaudo che l'interessato deve chiedere al comune una volta ultimata la realizzazione dell'impianto in questo caso la concessione a una validità non di 15 anni ma di 18 anni come abbiamo detto trattandosi di impianto autostradale è soggetta al rinnovo e a ogni rinnovo occorre poi effettuare i nuovi collaudi diciottennali in questo caso quindi per quanto riguarda invece gli orari gli impianti autostradali quindi quelli che si trovano sulle autostrade ma anche sui raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed in interrutto quindi allora non si applica la disciplina degli orari che poi vedremo tra un attimo che è stata poi analiticamente disciplinata da ultimo dalla DGR del 2017 la 62-32 che infatti cominciamo ad analizzare in questo caso allora la normativa prevede appunto che tutti i nuovi impianti quindi tutti i nuovi impianti di distribuzione carburante nuovi chiaramente quindi con domande presentate dopo l'entrata in vigore della DGR 62-32 devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio non che del servizio self-service il cosiddetto pre-pay e rispettare gli altri criteri e parametri definiti dalla DGR dopodiché nelle zone omogenee regionali A, B e C poi dopo vedremo quali sono nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante o di ristrutturazione totale ecco perché era importante vi ricordate la definizione di ristrutturazione totale degli impianti su tutto il territorio regionale è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce come abbiamo prima letto dalla definizione quindi di potenza tra i 22 e i 50 kilowatt nonché infrastrutture di rifornimento di gas naturale compresso gas naturale liquido anche in modalità esclusiva self-service è consentita l'apertura anche di impianti di distribuzione cosiddetti monoprodotto da uso pubblico che erogano soltanto gas naturale compreso il biometano sia nella forma GNC quindi gas naturale compresso sia nella forma GNL gas naturale liquido e naturalmente in questi casi devono essere però questi miei questi impianti questi erogatori di gas naturale devono essere sempre accompagnati dalla installazione di nuovi punti di ricarica come li abbiamo sopravvisti quindi sempre di potenza fra i 22 e i 50 kilowatt proprio questa è ripeto questa è la la delibera di giunta regionale che attua diciamo così recepisce all'interno della regione di Piemonte l'articolo 18 del decreto legislativo 257 del 2016 che a sua volta costituiva l'attuazione in Italia di una direttiva comunitaria proprio importante sui nuovi combustibili alternativi e meno inquinanti diciamo così rispetto alla benzina e al gasolio inoltre questo è un altro aspetto importante per il quale troviamo il concetto di erogato quindi di volume di carburante erogato a cui abbiamo accennato prima ci sono due obblighi importanti e cioè l'obbligo per tutti gli impianti esistenti al 31 dicembre 2015 è che hanno avuto in quell'anno quindi nell'anno 2015 un volume di carburante erogato di benzina o di gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle all'interno di una provincia o di un ambito di città metropolitana il cui capoluogo di provincia o Torino nel caso della città metropolitana di Torino hanno superato il limite della concentrazione di PM10 le cosiddette polveri sottili per almeno due anni su sei negli anni di riferimento dal 2009 al 2014 quindi in questo caso per quelli per i nuovi impianti per gli impianti esistenti al 2015 che hanno questo erogato sopra i 10 milioni di litri e che si trovano all'interno di una provincia o area metropolitana i cui capoluoghi abbiano superato il limite di concentrazione per due dei sei anni tra il 2009 e il 2014 ebbene c'era l'obbligo per questi impianti di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto per dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica come abbiamo visto prima quelli almeno veloci quindi di potenza di ricarica tra i 22 e i 50 kilowatt nonché di distribuzione di gas naturale compresso o gas naturale liquefatto il progetto poi una volta approvato dal comune si deve realizzare nei successivi 24 mesi dalla presentazione della data di presentazione del medesimo quindi questo è quello che prevede la normativa regionale per gli impianti con una norma transitoria diciamo per gli impianti esistenti al 31 dicembre 2015 vi è poi un'altra norma transitoria importante che riguarda gli impianti invece già esistenti al 31 dicembre 2017 quindi la scadenza non è 2015 ma è 2017 che in quell'anno quindi nel 2017 hanno avuto un volume erogato non di 10 milioni ma di 5 milioni di litri e che si trovano nello stesso ambito territoriale di qui sopra quindi per il resto non cambia niente quindi dove si trovano in un ambito in una provinciale o di città metropolitana in cui i capologhi hanno superato per due degli ultimi sei anni il livello di concentrazione di polveri sottili di PM10 anche in questo caso per questi soggetti c'è l'obbligo appunto di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di punti di distribuzione per il gas naturale compresso o il gas naturale liquefatto per quanto riguarda poi ci sono anche disposizioni di semplificazione quindi naturalmente dando atto anche di quanto era previsto dalle 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 politiche di semplificazione previste dai vari decreti scia 2 tra l'altro questa è una delibera di giunta regionale che è entrata in vigore pochi giorni dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 222 o meglio sì è entrata in vigore circa un anno dopo il 222 del 2016 che già prevedeva determinati regimi abilitativi e quindi sulla scorta di quello si è previsto che le modifiche all'impianto che non configurino naturalmente la ristrutturazione totale si devono realizzare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali ma sulla base di una semplice comunicazione tuttavia alla comunicazione deve essere allegata un'attestazione rilasciata quindi un'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato quando quando riguarda quando riguarda che cosa l'aggiunta quando le modifiche all'impianto consistono nella aggiunta di carburanti che non erano stati precedentemente erogati quindi il cosiddetto potenziamento dell'impianto la variazione del numero di colonnine la variazione del numero e o della capacità di stoccaggio dei serbatoi quindi vengono aumentati o diminuiti come dire i volumi dei serbatoi e vengono installati dispositivi self-service prepagamento in tutti questi casi la modifica è sempre soggetta a comunicazione ma deve essere accompagnata da attestazioni rilasciate da un tecnico abilitato nel caso in cui venga trasferita la titolarità di un impianto quindi stiamo parlando di subingresso anche qua il regime abilitativo è la semplice comunicazione che deve essere data al comune quindi al suo app competente alla regione e all'UTF per gli aspetti fiscali che ne derivano e di rilascio della licenza di esercizio che rilascia appunto l'ufficio tecnico di finanza al titolare e questo deve avvenire entro 15 giorni dall'atto di cessione dell'impianto ancora è prevista la possibilità di sospensione volontaria dell'impianto che come abbiamo visto ha un arco temporale limitato deve essere comunicato dal titolare dell'autorizzazione quindi non dal gestore ma sempre dal titolare dell'autorizzazione al comune dove si trova l'impianto e decorre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita quindi da quel momento non dalla comunicazione ma dalla data di chiusura effettiva c'è un limite massimo di sospensione che è di un anno nell'arco di due anni quindi nell'arco di due anni l'impianto non può mai essere chiuso per più di un anno a meno che come dicevo prima non si tratta di non si tratti di sospensione volontaria ma si tratti di sospensione dovuta a aspetti relativi alla viabilità al traffico dell'area interessata la DGR 6232 prevede anche gli adempimenti di comunicazione l'obbligo di comunicazione del comune alla regione in particolare il comune deve comunicare alla regione che cosa? l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni le modifiche intervenute sugli impianti quindi anche le comunicazioni con cui appunto i titolari comunicano appunto le modifiche intervenute sugli impianti le chiusure oppure gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni obbligatorie dell'attività e quindi non le sospensioni facoltative ma quelle obbligatorie le revoche le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti e ogni altra informazione quindi queste sono le cose che sempre devono essere poste in essere devono essere comunicate e poi volta per volta tutto ciò che la regione chieda naturalmente con apposita nota al singolo comune o a una generalità di comuni a seconda di casi allora per quanto riguarda veniamo adesso a un aspetto molto importante molto dedicato che è stato affrontato nello stesso anno da prima da una legge regionale chiedo scusa dalla legge nazionale che è la legge 124 del 2017 e in particolare l'articolo unico omida a 119 quelli che poi hanno determinato come dire la realizzazione la previsione poi è stata realizzata l'anno dopo dell'anagrafia nazionale dei carburanti e subito dopo nel dicembre dello stesso anno la DGR 6232 ha previsto compiti simili diciamo a carico a carico dei SUAP e parliamo dell'obbligo di verificare la compatibilità la compatibilità degli impianti degli impianti esistenti di distribuzione carburante allora cominciamo cominciamo dall'inizio quindi la questo l'obbligo di verificare la compatibilità nasce con un articolo 1,5 del decreto 32 del 98 quello che appunto ha introdotto il regime autorizzatorio per gli impianti carburanti e questa norma nazionale obbligava i comuni a verificare entro il 30 giugno dello stesso anno che gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore naturalmente del decreto 32 quindi parliamo di febbraio marzo fossero compatibili con con la normativa che abbiamo già visto prima quindi con la normativa urbanistica quella a tutela dell'ambiente del traffico urbano ed extraurbano della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e comunque fossero compatibili anche con le varie disposizioni di localizzazione emanate dalle regioni o dagli stessi comuni naturalmente come sopra sono stati pochissimi comuni in tutta Italia che hanno provveduto ad espletare queste ad espletare queste verifiche per cui si è stabilito che i comuni anche in forma associata che questo lo ha stabilito la la DGR 62-32 che non hanno effettuato le verifiche di qui sopra quelle previste dal 32 del 98 devono comunque sottoporre a verifica gli impianti esistenti sulla base di una serie di parametri di fattispecie previste elencate dalle stesse linee guida qua parliamo soprattutto di requisiti attinenti alla viabilità ed è stabilito nelle linee guida regionali che queste verifiche sostituiscano quelle previste dal 32 del 98 anche se le verifiche anche se le verifiche previste dal 32 del 98 come vediamo sopra erano di carattere un po' più ampio più ampio spettro mentre le verifiche stabilite imposte dalla delibera di giunta regionale del 2017 sono molto più tarate rispetto a quello che prevede la legge 124 del 2017 ad ogni modo una volta effettuate queste verifiche gli impianti risultati incompatibili sono sottoposti a revoca quindi si revoca l'autorizzazione a meno che il titolare dell'autorizzazione non si impegna ad adeguare gli impianti nel termine fissato dal comune laddove naturalmente questo adeguamento sia fisicamente materialmente possibile questo è chiaro il comune una volta che abbia verificato il mancato adeguamento nei termini che esso stesso ha stabilito revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'autorizzazione dell'impianto al gestore perché anche il gestore questo lo deve lo deve sapere alla regione al competente ufficio tecnico di finanza e al comando provinciale dei vigili del fuoco quindi a tutti più o meno coloro che o a quasi tutti quelli che avevano rilasciato il parere nell'ambito del procedimento per l'apertura dell'impianto la revoca che cosa deve contenere intanto la data di decorrenza naturalmente questo è scontato inoltre l'ordine di disattivare l'impianto e poi alcune cose molto importanti che spesso vengono soprattutto i suap su cui non pongono la dovuta attenzione cioè lo smantellamento dell'impianto il ripristino delle aree alla situazione originaria e la rimozione di tutte le attrezzature comprese ovviamente situate sopra suolo e sotto suolo quindi compresi i serbatoi non soltanto gli erogatori le colonnine e quant'altro ma anche i serbatoi e la bonifica del suolo che è prevista tra l'altro con una procedura semplificata dall'articolo 242 bis del codice dell'ambiente perché è importante questo aspetto della delibera regionale perché la spesso non si tiene conto del fatto che un impianto carburante non è una normale attività commerciale come altre una volta cessata l'attività occorre che naturalmente a meno che non ci sia un subingresso quindi non ci sia un nuovo soggetto che subentra ma altrimenti occorre che l'impianto venga fisicamente smantellato e che l'area venga ripristinata nello status quante quindi nella situazione di fatto di diritto ma soprattutto di fatto precedente ai lavori di installazione e quindi soprattutto bisogna porre attenzione all'eventuale necessità di bonificare il suolo attraverso delle procedure che ripeto che sono poi descritte bene descritte nelle linee guida allora per quanto riguarda sempre la DGR 6232 un altro aspetto importante e ha chiarito era già stato fatto con una delibera del 2000 ad ogni modo hanno chiarito il concetto del territorio comunale che viene ripartito in quattro zone omogenee zona 1 2 3 4 la zona 1 è quella quella zona tipicamente dei centri storici la zona A quella prevista dal DM 1444 del 68 quindi per quanto riguarda l'aspetto edilizio urbanistico è la zona A e sono le zone di interesse storico artistico e di particolare pregio ambientale quindi tipicamente i centri storici e in questa zona A è vietato l'insediamento la localizzazione di nuove impianti di distribuzione carburante la zona 2 riguarda le cosiddette zone residenziali quindi parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici che sono destinate prevalentemente anche se non soltanto alla residenza le zone B e C del DM 1444 del 68 e qua parliamo della cosiddetta zonizzazione urbanistica quindi zone B e C sono le zonizzazioni urbanistiche della 1444 qui possono essere installati soltanto nuovi impianti che siano riconducibili a stazioni di rifornimento o a stazioni di servizio ma con una prevalente dotazione di servizi ai veicoli quindi qua non parliamo di altre attività quindi quali sono i servizi ai veicoli deposito di olio lubrificante la sostituzione e riparazione delle gomme l'ingrassaggio l'elettroauto officine e simili nella zona nella zona 3 invece che è la zona per insediamenti produttivi industriali artigianati e per servizi commerciali di vario tipo abbiamo le parti del territorio che sono destinate a nuovi o a preesistenti insediamento per impianti industriali o assimilati nonché e questa è la zona D quindi le aree destinate alle attività industriali oppure zona F le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale in questi casi le stazioni di rifornimento le stazioni di servizio possono anche avere centri commerciali rivolti al veicolo oppure centri integrati centri commerciali interati rivolti non solo al veicolo ma anche alla persona quindi qua è possibile anche realizzare impianti stazioni di servizio e stazioni di rifornimento che abbiano negozi bar edicole e simili poi su questo potete andarvi a vedere sia le linee guida leggere sia le linee guida sia le risposte a quei siti pubblicate dalla regione Piemonte dove appunto si dà atto del fatto che naturalmente essendo attività accessorie rispetto all'esercizio dell'attività principale naturalmente anche per quanto riguarda sia gli orari di esercizio sia il sia la vita della singola licenza del singolo titolo abilitativo deve essere agganciato alla vita del titolo abilitativo dell'impianto principale che è quello di distribuzione carburante e infine abbiamo la zona 4 che riguarda le cosiddette zone E del DM1444-68 cioè le zone agricole e qua possiamo avere stazioni di rifornimento e stazioni di servizio con la presenza di servizi per il veicolo e servizi per la persona come ristoranti edicole bar e quant'altro con le specifiche di qui sopra per il posizionamento di nuovi impianti naturalmente sapete che fino al 2009 vi era una più rigida demarcazione che poi è stata su questo aspetto c'è stata una liberalizzazione fino al 2008 da parte dello Stato centrale quindi non ci sono più limiti di distanza che possono imporre in maniera come dire a prioristica i comuni e le regioni ma opportunamente la regione Piemonte nelle sue linee guida dice che per il posizionamento di nuovi impianti occorre tener conto delle distanze minime previste dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale oppure da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità quindi sono valori di rango costituzionali che naturalmente devono essere tenuti presenti è vero che oggi c'è una liberalizzazione dal punto di vista della localizzazione ma è anche vero che bisogna tener conto di questi aspetti di interessi di rango primario come dicevamo le linee guida specificano che i nuovi impianti possono essere dotati anche di autonome attività artigianali commerciali oppure di pubblici esercizi per quanto riguarda le attività commerciali devono avere una superficie netta di vendita naturalmente non superiore a quella del vicinato quindi 250 150 metri quadri di superficie netta a seconda della tipologia di comune un altro aspetto importante delle linee guida riguarda l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali che è di 52 ore e fermarestando naturalmente questo riguarda appunto gli impianti stradali non quelli autostradali che devono come abbiamo visto essere sempre aperti e fermo restando la necessità di garantire l'apertura assistita quindi con personale non quella automatica ma quella con personale su tutto il territorio regionale nelle fasce che vanno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 quindi questa è una fascia cosiddetta di rispetto che deve essere sempre presidiata dal personale dal gestore e dai suoi collaboratori nell'impianto poi i gestori stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto ma non bisogna mai superare il limite delle 13 ore giornaliere quindi fermo restando queste 6 ore minime in cui l'impianto deve essere sempre presidiate c'è un limite massimo inderogabile che è di 13 ore giornaliere per quanto riguarda invece l'erogazione del metano del GPL il gas di petrolio liquefatto non è assoggettato a limiti massimi di durata giornaliera e neanche a limiti massimi settimanali e negli impianti multiprodotto si può protrarre anche oltre l'orario di apertura quindi in questo caso soltanto per il metano e per il GPL l'attività in presenza può essere protratta anche quando cessa l'assistenza invece alle pompe che erogano la benzina e il gasolio un ultimo aspetto importante come dicevo prima scusate è l'introduzione da parte di questa legge 124 del 2017 dell'anagrafe nazionale degli impianti di distribuzione di benzina gasolio GPL e metano che viene istituita presso il MISE quello che è importante è che l'iscrizione di ciascun impianto è un requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio il che vuol dire che come dire il titolare dell'impianto che non si adegua a quanto tra un attimo vedremo diciamo così subisce la sanzione della decadenza del proprio titolo autorizzatorio o concessorio che deve essere poi appunto dichiarata dal suo app competente questi commi prevedono tutti quanti come dire un regime transitorio quindi degli obblighi cadenzati che andavano fino al 2018 2019 che sono ovviamente dei corsi ma che comunque voi dovete sempre verificare di cui dovete sempre verificare il rispetto anche oggi che siamo nel 2022 naturalmente cosa è previsto è previsto che entro la fine di febbraio del 2018 quindi entro dei corsi sei mesi perché la legge è di fine agosto del 2017 quindi entro la fine febbraio 2018 tutti i titolari di autorizzazione di concessione erano tenuti a iscriversi a questa nagrafe chiaramente una volta verificato appunto il rispetto di precisi parametri di compatibilità parliamo di compatibilità viabilistica soprattutto parametri elencati da due commi comma 112 e comma 113 riferiti rispettivamente agli impianti all'interno dei centri urbani e agli impianti nelle aree extraurbane o in alternativa l'impegno di rimuovere le cause di incompatibilità entro un anno dall'entrata in vigore della legge quindi entro il fine agosto fondamentalmente del 2018 quindi o dichiaravi di essere conforme a questi commi 112 e 113 oppure ti impegnavi a rimuovere le cause di incompatibilità entro un anno dall'entrata in vigore della legge in difetto di questo impegno quindi se entro la fine di febbraio 2018 ciò non accadeva il titolare cessava l'attività di vendita e doveva cessare entro la fine di maggio del 2018 e provvedere a sue onere e spese naturalmente allo smantellamento dell'impianto se invece non veniva proprio fatta l'invio sulla dichiarazione della compatibilità dell'impianto che doveva essere allegata all'iscrizione all'anagrafe entro il febbraio del 2018 erano previste delle sanzioni pecuniarie amministrative molto molto importanti su cui adesso è inutile dilungarci una volta decorsi in vano questi 30 giorni che erano concessi dal MISE per l'adeguamento il MISE quindi il Ministero dello Sviluppo Economico ne dava comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla Regione e all'ente che ha rilasciato il titolo autorizzatorio o concessorio quindi tipicamente il Comune i quali nei successivi 30 giorni dovevano dichiarare la decadenza del titolo autorizzativo concessorio e l'Agenzia delle Dogane alla decadenza della licenza di esercizio perché si parla di dichiarazione di decadenza e non di revoca perché la mancata di adeguamento determinava già di per sé ex legge per espresso disposto normativo la decadenza del titolo quindi il titolo decadeva automaticamente non occorreva nessun provvedimento qual è la revoca perché la revoca come sappiamo è un provvedimento ma il Comune dove il Comune e gli altri enti dovevano semplicemente dichiarare il Comune dichiaravano la decadenza del titolo autorizzativo e l'Agenzia delle Dogane la decadenza della licenza di esercizio licenza di esercizio che poi è ancora più è ancora più più grave perché perché come vediamo nella continuazione della slide il rilascio al gestore dell'impianto questo lo si rilascia al gestore non al titolare del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è subordinato alla verifica che l'impianto sia scritto alla nagra perché sia stato dichiarato compatibile queste verifiche si fanno accedendo telematicamente alla nagra e poi dopo vedremo con quali strumenti quindi questo vuol dire che un gestore di un impianto che non è stato dichiarato compatibile che non è scritto alla nagrafe non può proprio ricevere dall'Agenzia della Dogane il registro annuale di carico e scarico e senza quello non è possibile materialmente approvvigionarsi del carburante e quindi poterlo poi erogare alla clientela finale quindi un sistema di sanzioni veramente forti sempre dal punto di vista dell'apparato sanzionatorio la legge 124 prevede che nel caso in cui il titolare abbia dichiarato che l'impianto è incompatibile ma poi non abbia provveduto alla cessazione entro il mese di maggio 2018 il ministero dello sviluppo economico in rogal una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 15.000 euro per ciascun mese di ritardo quindi come vedete parliamo di importi notevoli queste sanzioni si erogano ai sensi della legge 689 dell'81 quindi naturalmente applicando l'importo più basso fra il doppio del minimo e un terzo del massimo comunque parliamo di 5.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita e dispone la chiusura immediata dell'esercizio i proventi vanno in questo caso al comune competente per il territorio per il 70% e per la quota restante al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburante nel caso in cui venga accertata la non compatibilità di un impianto che invece il titolare aveva dichiarato compatibile iscrivendosi all'anagrafe oppure nel caso in cui il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento si è decorso in vano il comune quindi l'ente competente per il territorio il comune tipicamente dichiara la decadenza del titolo e la comunica a regione mise e agenzia delle dogane l'agenzia delle dogane a questo punto come dicevamo sopra dichiara la decadenza della licenza di esercizio e sono risolti di diritto i contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburanti quindi come vedete un apparato di sanzioni veramente veramente importante quali sono allora questi criteri di incompatibilità sono divisi in due in due tipi che poi sono fondamentalmente gli stessi criteri che trovate nelle linee guida regionali del 2017 che come prevede la regione Piemonte sostituiscono la cui verifica sostituisce la verifica che i comuni dovevano espletare entro il 30 giugno del 98 sono criteri relativi alla viabilità per quanto riguarda gli impianti che si trovano dentro il centro abitato l'impianto è incompatibile l'impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento sia all'utenza che all'impianto stesso avviene sulla carreggiata cioè fondamentalmente il principio qual è che sia le auto che si vanno a rifornire sia le autobotti che invece riforniscono l'impianto non devono occupare la carreggiata quindi deve essere uno spazio sufficiente poi è stabilito anche dalle linee guida regionali che vanno mi sembra da un minimo di 220 a un massimo di 280 l'ingombro minimo entro il quale deve avvenire deve avvenire appunto il rifornimento quindi non deve non deve creare ostacolo al normale flusso veicolare e chiaramente sono incompatibili anche nei centri abitati ci mancherebbe gli impianti che si trovano all'interno di aree pedonali mentre invece all'esterno dei centri abitati i requisiti sono anche altri in particolare sono incompatibili gli impianti che ricadono in corrispondenza di biforcazioni di strada di uso pubblico i cosiddetti incroci o y e che si sono ubicati sulla cuspida degli stessi con accesso su più strade pubbliche inoltre gli impianti che rientrano in curve che hanno un raggio minore o uguale a 100 metri proprio per la difficoltà evidentemente per le macchine che percorrono questa curva di entrare nel distributore carburante e poi anche qua anche per gli impianti che si trovano nelle aree fuori dal centro abitato gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento sia all'utenza che all'impianto avviene sulla carreggiata allora per gli impianti che cessavano entro fine di agosto 2020 si applicavano procedure semplificate di dismissione previste dal comma 117 dell'articolo 1 che cosa è successo poi che sulla base di questo apparato regolatorio di questi combi da 100 a 119 vi è stato un accordo in conferenza unificata dell'8 marzo 2018 che poi è stato fatto proprio naturalmente da tutte le regioni tra cui la regione Piemonte e che prevede che cosa che le comunicazioni che il privato l'interessato il titolare dell'impianto deve fare a regioni enti locali eccetera non vanno fatte tramite mail tramite PEC raccomandate ma devono essere fatte unicamente iscrivendosi all'anagrefe nazionale quella quella poi creata sotto legge del MISE quindi solo lì solo in quel caso solo in quel modo si fanno le comunicazioni non scrivendo direttamente al comune o alla regione le fatti specie di incompatibilità quelle che abbiamo appena visto riferite ai centri ai impianti dentro o fuori i centri abitati superano le fatti specie di incompatibilità previste da norma regionale solo per quanto riguarda la sicurezza e la circolazione stradale ma da voi non c'è problema perché i criteri di viabilità di compatibilità viabilistica sono grossomodo gli stessi inoltre è previsto che chi deve iscriversi sono tenuti a iscriversi lo specifica l'accordo dell'8 marzo 2018 tutti gli impianti della rete stradale e autostradale anche quelli che si trovano in regime di sospensiva mentre sono esclusi gli impianti privati gli impianti avio cioè quelli destinati a rifornire di carburante di cherosene in particolare gli aerei e gli impianti pernatanti e poi all'accordo sono allegate schede di iscrizione la regione di Piemonte ha recepito questo accordo con un'altra DGR la 7208 del 13 luglio 2018 quindi è pienamente operativo questo accordo all'interno anche della regione Piemonte da luglio del 2018 e infatti sono state fatte poi successivamente alcune comunicazioni nella prima è stato detto che appunto la piattaforma informatica che è resa disponibile dal MISE è stata realizzata nel portale imprese in un giorno .gobo.it nella sezione anagrafe carburanti da cui è possibile scaricare anche il manuale utente e la regione Piemonte con questa comunicazione comune del 19 luglio del 2018 d'atto comunica che la piattaforma è attiva dal 2 luglio 2018 anche se poi in realtà non era proprio pienamente attiva da quella data inoltre la regione comunica che il titolare dell'autorizzazione o concessione accedendo appunto a questa sezione anagrafe carburanti del sito imprese in un giorno .gobo.it può e deve effettuare l'iscrizione all'anagrafe e contestualmente deve rendere l'autocertificazione di compatibilità o incompatibilità dell'impianto come abbiamo visto sopra con una successiva comunicazione di fine anno del 2018 quindi il 12 dicembre in particolare la regione poi ha comunicato sempre ai comuni che dal 20 novembre dello stesso anno era operativa era accessibile proprio concretamente e interattivamente proprio per poter garantire l'interoperabilità dei dati tra le pubbliche amministrazioni l'anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti e veniva proprio comunicato anche l'indirizzo IP l'indirizzo web a cui collegarsi che è appunto questo registrazione impianti .mise.gov.it gestito da infocamere attraverso il sito imprese in un giorno ed è attraverso questa procedura che gli operatori dei comuni possono avere accesso alle dichiarazioni relative agli impianti che si trovano sul proprio territorio di competenza cioè è qui che bisogna andare per verificare la situazione degli impianti che si trovano sul proprio territorio in particolare come ci ricorda appunto questa comunicazione della regione del 12 dicembre del 2018 la registrazione della piattaforma di back office per la gestione delle pratiche di iscrizione all'anagrafe riveste carattere di urgenza e quindi la regione nel 2018 sollecitava i comuni i suap in particolare a registrarsi nel più breve tempo possibile perché una volta registrati una volta che si accedeva e che si accede a questa pagina ci hanno due funzioni molto importanti prevalenti anche non esclusivi ma prevalenti in particolare la possibilità di consultare le pratiche quindi un'attività di mera consultazione che consente di visualizzare tutte le dichiarazioni di iscrizione all'anagrafe nell'impianto compresi vari allegati inseriti nell'assist quindi io entrando nella sezione consultazione pratiche posso verificare quali impianti nel mio territorio si sono iscritti e quindi tutti gli altri evidentemente non si sono iscritti e quindi per i quali va pronunciata la decadenza l'altro aspetto è quello della istruttoria delle pratiche quindi il comune può verificare non soltanto il fatto che esista la dichiarazione di iscrizione ma posso entrare nel merito posso verificare i contenuti della pratica quindi posso verificare che tutto ciò che è stato allegato da parte del tecnico anche in caso di adeguamento ai requisiti di compatibilità che abbiamo visto sopra siano effettivamente coerenti con gli elementi documentali con il mio possesso quindi posso effettuare con la funzione istruttore della pratica una verifica più approfondita entrando nel merito degli allegati progettuali depositati su questa cattaforma dal titolare dei suoi progettisti quindi questo è sinteticamente come dire l'aspetto questo era l'ultima slide quindi il contenuto delle verifiche che non soltanto ai sensi della legge 124 del 2017 ma anche sulla base delle linee guida regionali i comuni i suap ma in generale i comuni devono porre essere continuativamente allora veniamo adesso ad alcune domande che avete posto in chat e le vediamo proprio in diretto nel caso in cui ci sono modifiche strutturali dell'impianto da quando si fanno da quando si fanno partire allora le modifiche strutturali le deve le deve chiedere le deve chiedere naturalmente il il titolare quindi la decorrenza sarà quella della data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche strutturali per strutturali dover scontato che ci riferiamo alla ristrutturazione totale dell'impianto quindi quello soggetto a quella soggetta d'autorizzazione se invece ci riferiamo a ci riferiamo alle modifiche non che non comportano ristrutturazione totale ma che comportano una semplice nuovo obbligo di comunicazione quelle possono essere fatte dalla data di comunicazione al SUAP attraverso l'apposita modulistica modulistica regionale ancora vediamo altre domande attenzione i mezzi la perizia allora la perizia giurata deve essere firmata davanti al pubblico ufficiale del tribunale allora la perizia giurata sì perché noi abbiamo in genere una relazione asseverata e la perizia giurata la perizia giurata è quella appunto che ha questo questo aggravio procedimentale proprio perché che si presta giuramento si presta appunto è una cosa ovviamente come dire un po' fittizia ma comunque sì altrimenti quell'altra è la relazione asseverata poi parliamo invece di perizia giurata che ha questo aggravio procedimentale perché come abbiamo visto e come è previsto fin dal decreto legislativo 32 del 98 sostituisce di fatto per molti aspetti anche le autorizzazioni che devono essere rilasciate da enti pubblici è un esempio anche in molti casi di sussidiarietà cosiddetta orizzontale allora allora per quanto dice come si considerano i distributori di carburante destinati a mezzi diversi dagli autoveicoli ad esempio i locomotori ferroviari rientrano nella normativa oggi esposta ma direi di no soprattutto per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione all'anagrafe nazionale se la regione ha chiarito o meglio non la regione l'accordo conferenza unificata poi recepito dalla regione ha chiarito che non ha chiarito che non si applica questo obbligo di iscrizione all'anagrafe agli impianti avio agli impianti ai natanti privati sicuramente ritengo che neanche per questi particolari tipi di impianti del tutto speciali e particolari sono soggetti all'obbligo di iscrizione è chiaro che poi quelli che sono invece gli obblighi di sicurezza trattandosi di materiale esplosivo di materiale che brucia è chiaro che quelli devono essere sempre tenuti in considerazione allora un'altra domanda il collaudo finale è la segnalazione certificata di agibilità o atto espresso del comune no allora il collaudo finale è un allora se parliamo dipende dipende che cosa intendiamo per collaudo finale se intendiamo il collaudo posto in essere dal se il collaudo quindicennale o diciottennale a seconda che si tratti di un a seconda che si tratti di un impianto stradale autostradale quello deve essere fatto attraverso un verbale della commissione nominata come abbiamo visto dal comune in entrambi i casi se invece parliamo del collaudo come dire di carattere impiantistico edilizio quindi quello previsto dagli articoli in particolare 24 e 25 del testo unico dell'edilizia quello sicuramente può essere fatto può essere fatto il collaudo finale quello della dell'agibilità ed eventualmente poi successivamente si può si può procedere anche con la procedura particolare di collaudo previsto dall'articolo 10 del DPR 160 del 2010 che vi ricordo è il collaudo proprio previsto per gli impianti assoggettati al procedimento unico del SUA allora vediamo qualche altra qualche altra domanda dunque vediamo un poco allora la modifica di un impianto stradale asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato esenza dell'articolo 5,2 allegato B della DGR 62-32 del 2017 tale attestazione costituisce anche collaudo dell'intero impianto o non influisce sul conteggio del termine di 15 anni per il collaudo dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria ambientale grazie allora no allora io ritengo che il discrimine da fare sia questo se parliamo di una modifica di impianto assoggettata a comunicazione naturalmente questa non impatta sul termine di 15 anni quindi dei corsi di 15 anni comunque andrebbe fatto il collaudo se invece parliamo di modifiche che comportano una ristrutturazione totale quindi possiamo rientrare nel nuovo ristrutturazione totale allora a quel punto sicuramente in termini di 15 anni può essere spostato in avanti rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione un'altra domanda allora il collaudo quindicennale può essere effettuato con l'utilizzo dell'articolo 10 cosiddetto autocollaudo allora no allora qui se non mi sbaglio vi è anche una risposta data dalla regione Piemonte nelle fac che potete trovare sul sito regionale dove si fa un distinguo il collaudo quindicennale altro è un collaudo che quello è il collaudo iniziale diciamo di quello che riguarda la messa in esercizio dell'impianto del nuovo impianto o nel caso di ristrutturazione totale se invece parliamo del collaudo quindicennale o diciottennale nel caso degli impianti autostradali quello deve essere fatto sempre ed esclusivamente attraverso la commissione appunto di collaudo prevista dalla prevista dalla legge regionale e dalle linee guida quindi assolutamente sì allora un'altra domanda quindi tutti gli adempimenti sono a carico del SUAP compreso il rilascio dell'autorizzazione dell'impianto l'ufficio commercio ha qualche ruolo in materia ma qua dipende insomma dipende per quanto riguarda l'ufficio commercio nel senso che sicuramente da come sono gestiti all'interno del singolo del singolo comune rapporti tra ufficio commercio e SUAP premesso che in molti comuni il SUAP ormai si è sovrapposto coincide con l'ufficio commercio ad ogni modo sì tutti gli adempimenti sono a carico del SUAP adempimenti naturalmente istruttori procedimentali poi è chiaro che il parere preventivo sul progetto ai fini antincendio lo deve rilasciare il comando provinciale di vigile del fuoco il permesso di costruire lo deve rilasciare e poi la verifica sui contenuti della segnalazione certificata di agibilità la deve verificare il SUE l'ufficio tecnico e quant'altro quindi sicuramente non ci sono da questo punto di vista adempimenti decisori a carico del SUAP il SUAP è competente come dicevamo in un precedente webinar soltanto per quanto riguarda la corretta in strada con il corretto instradamento della procedura cioè deve essere deve acquisire la pratica deve convocare o indire la conferenza di servizi nei termini previsti dalla legge non deve dimenticarsi filoni endoprocedimentali che sono obbligatori in relazione al caso concreto e deve eventualmente anche applicando il silenzio assenso rilasciare verificare per quanto di sua per quanto di sua competenza anche il rispetto delle prescrizioni di localizzazione regionale e poi rilasciare il titolo unico perché dico per quanto di sua competenza perché poi dipende dal singolo riparto di funzioni all'interno dell'ente cioè chi deve verificare se quell'impianto quel progetto di impianto è suscettibile di rispettare o meno le normative regionali eccetera può essere il suo appassiare le competenze al suo interno può essere l'ufficio tecnico l'ufficio ambiente o altri uffici questo è un dato che riguarda l'autonomia organizzativa e regolamentare del singolo ente allora dunque poi per quanto riguarda vediamo altre domande allora quindi distributori di carburante a uso privato destinati a mezzi diversi agli autoveicoli quindi ferroviari o natanti non sono assoggettati all'autorizzazione di quell'articolo 32 no i distributori sono sempre assoggettati all'autorizzazione semplicemente allora non si applicano talune degli aspetti che abbiamo visto sopra quindi ad esempio quelli ferroviari o natanti sicuramente non devono non devono essere iscritti nella nella nagrafe non devono essere iscritti nell'anagrafe nazionale del degli impianti degli impianti stradali e autostradali quindi quindi assolutamente dunque vediamo ancora qualche altra domanda gli impianti ad uso privato hanno delle modalità semplificate l'autorizzazione per l'installazione dell'esercizio ma di fatto no nel senso che il procedimento il procedimento che si applica a loro è fondamentalmente lo stesso previsto per lo stesso previsto per gli impianti stradali la facilitazione che può esserci sicuramente potrà essere che ad esempio non c'è trattandosi di aree private quindi all'interno di come dire di parcheggi o quello che sia di proprietà dell'ente di proprietà della ditta non c'è la problematica ulteriore che hanno invece i titolari di impianti stradali di doversi interfacciare con l'ente proprietario della strada quindi magari lì quello può essere una facilitazione ma che deriva dalla stessa localizzazione progettuale per il resto no occorre sicuramente anche qua la domanda occorre che il SWAP convochi la conferenza dei servizi e che poi venga rilasciato alla fine l'autorizzazione quindi da questo punto di vista grosse problematiche non ce ne sono allora ancora quali adempimenti amministrativi verso il SWAP competono al gestore dell'impianto e non al titolare dell'autorizzazione ma sicuramente adempimenti relativi alla comunicazione degli orari perché quella è una cosa che appunto compete la comunicazione degli orari come abbiamo visto in quelle fasce orarie obbligatori dalle 9 alle 12 dalle 15 alle 18 e in generale non inferiore a 52 ore settimanali né superiori alle 13 ore giornaliere appunto che sono necessarie e necessario comunicare comunicare all'amministrazione e quindi in particolare al comune e quindi immagino al SWAP allora il procedimento può essere affidato al servizio edilizia ma le posso rispondere con l'unica con una argomentazione che abbiamo già trattato nelle volte precedenti cioè no nel senso che trattandosi di un impianto produttivo di beni e servizi e non ricadendo nei casi di eccezione previsti dal DPR 160 sicuramente per gli impianti di distribuzione carburanti e la competenza all'interno del comune è quella del SWAP vero è che la normativa regionale parla di SWAP laddove operante laddove operante istituito e operante però è anche vero che questa è una norma di quasi 20 anni fa oggi naturalmente che avete anche un supporto da parte della regione una piattaforma regionale un sistema diciamo regionale che vi supporta sicuramente oltre a tutta una serie di software che sono quello regionale quello camerale eccetera sicuramente non è ammissibile almeno in linea giuridica di principio l'affidamento dell'intero procedimento ad altri uffici dell'ente allora nel caso il titolare dell'autorizzazione non presenti richiesta di collaudo alla scadenza dei 15 anni è corretto procedere disponendo della sospensione dell'esercizio dell'impianto ma sicuramente sì perché il collaudo quindicennale o quello di sottennale per gli impianti autostradali è un adempimento assolutamente obbligatorio che garantisce l'ente pubblico il sistema pubblico nel suo insieme e quindi anche la collettività col fatto che permangano i requisiti di sicurezza oltre che quelli genico-sanitari fiscali eccetera dell'impianto quindi per una preeminente questione di sicurezza è assolutamente corretto disporre la sospensione dando un termine dando un termine naturalmente magari anche breve dopodiché scatta la scatta la revoca dell'autorizzazione perché non è che i procedimenti questo è un principio generale non è che i procedimenti amministrativi possono rimanere aperti sin e di insomma questo è questo è chiaro allora vediamo qualche altra un'ultima domanda se ce la facciamo allora allora per la vendita per la vendita dei prodotti compresi nella tabella speciale per i distributori occorre presentare apposita scia sì sicuramente sì fermo restando quello che abbiamo detto prima e cioè che non è possibile non è possibile che i vari esercizi commerciali possano avere poi una vita autonoma rispetto a quella che è il a quello che è il la prevalente attività di distribuzione carburanti quindi sia per quanto riguarda gli orari sia per quanto riguarda la vita del titolo abilitativo dell'esercizio commerciale annesso a un impianto di distribuzione carburante vanno sicuramente eseguite quelle vanno assolutamente eseguite quelle quelle la via diciamo il parametro di riferimento e il quello della titolo abilitativo per l'impianto di distribuzione carburante allora io a questo punto perché manca solo un minuto direi che possiamo chiudere qua e naturalmente risponderò a tutte le domande per iscritto nei prossimi giorni pubblicando i vostri requisiti e le mie risposte sul sul sito sul sito di eventi pia spero di essere stato abbastanza chiaro anche se la materia è piuttosto complessa e tecnica vi ringrazio e vi saluto sì grazie a tutti ci vediamo martedì prossimo e come ha detto Riccardo Roccasalva troverete le risposte sul nostro sulla pagina di eventi pia dove vi siete iscritti e che Stefania Mulas vi ha ricordato grazie a tutti e anche a Stefania Mulas e arrivederci grazie a tutti arrivederci grazie a tutti